Venditalia 2024 continua, siamo allo stand della Nutis SRL proprietaria del marchio Caffè Barbaro. Ci troviamo in compagnia di Vincenzo Cascone, il responsabile marketing dell'azienda. Ciao Enzo e bentornato. Grazie a te Fabio, bentornato anche a te, sempre un piacere di vederti. Il piacere è mio soprattutto perché ogni volta che ci incontriamo ci offri quelle primizie che provengono dalla Campania e che regalano un'esperienza gustativa, gastronomica straordinaria che non piace solo a me ma a tutti coloro che sono presenti. Enzo, in questa occasione voi non solo riproponete quanto uscito nell'ultimo anno 2023 ma soprattutto ciò che proponete per la prima volta in questa occasione a Venditalia 2024. Sì, allora adesso come già ben sappiamo di tutte le nostre compatibili che sono già ben affermate sul mercato sono conosciute sia nel mondo GDO che sia nel mondo dei negozi specializzati, nei coffee store. Quindi oggi siamo arrivati finalmente alla presentazione e alla dimostrazione e anche alla distribuzione della Vertuo, ricarica Vertuo. Cioè, al momento abbiamo creato un sistema che va a ricaricare la Capusla Vertuo. Come funziona? È semplice. L'involucro della Capusla originale viene svuotato, pulito, viene inserita al suo interno la nostra ricarica e semplicemente con questa piccola funzione si può finalmente assaporare un vero espresso napoletano in una macchina importante come la Vertuo e pian pianino vedremo come evolverà la situazione per le nuove novità che adesso non posso dare ulteriori informazioni. Enzo, a parte quello di cui abbiamo appena parlato e chi ci hai presentato, la punta di diamante e scusa il bisticcio di parole è la vostra bellissima macchina Tonino Lamborghini con la corazza diamantata appunto. Sì, finalmente come più edizioni siamo stati qui a riproporla, a presentarla, a dire prossimamente, prossimamente, prossimamente e finalmente la macchina è in vendita, la macchina è in distribuzione, si può scegliere fra più di 10-12 colorazioni, adesso stiamo ancora definendo bene le colorazioni finali, però la macchina è in piena distribuzione sul mercato. Infatti qui già si sono state le prime richieste, i primi ordini, qualcuno faceva anche la sua richiesta di qualche colore particolare, però la nostra soddisfazione principale è che finalmente la macchina è sul mercato. Quindi adesso è disponibile per tutti, dalla massaia al negozio specializzato e alla grande catena di distribuzione. Io vedo anche colori bellissimi, un verde molto spiccato, così come un giallo o un arancione, o addirittura un color caffellate, oltre alla bellissima e elegantissima Tonino Lamborghini completamente nera. Per chi desidera maggiori informazioni e sul prodotto Vertuo e su tutti i formati che voi andate a realizzare, sono davvero tutti quelli presenti in commercio. E infine sulle macchine che sia il nuovissimo modello realizzato per Tonino Lamborghini, sia per la vostra ormai consolidata Barbie, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere per avere maggiori informazioni ed entrare in contatto con voi? Allora il nostro indirizzo è info-nutis.it oppure info-caffe-barbaro.it Giusto per dare un piccolo punto alla nostra intervista, mi sono dimenticato di presentare anche l'ultima macchina che abbiamo portato qui in esposizione, anche questa sarà disponibile per fine mese, e la nostra Barbaro 1956, finalmente una macchina tutta a nome Barbaro. Quindi la Barbaro 1956 è una macchina un pochino più compatta, classico stile della macchina già vista, però un po' definita con le nostre caratteristiche e sappiamo modellarle nel posto giusto per il gusto giusto. E di fuori di questo poi vi aspettiamo con tante altre novità che sono nel cassetto e ne sono davvero tante. E noi saremo qui a darne conto attraverso gli schermi di vendintv.it, di vendinnews.it e naturalmente tutto ciò che è collegato sui social network con i nostri canali su LinkedIn, Facebook, Twitter, X e Instagram a vostra disposizione. Enzo, poi ci spiegherai, giusto detto fra me, te e loro, che cosa significa Caffè Barbaro, ma soprattutto 1956. Allora, Caffè Barbaro è un brand che nasce nel 1956, così facciamo chiarezza su questa cosa. Non è un marchio virtuale, non è un marchio per un pay off, non è pura e semplice realtà. Barbaro 1956 1956. E questo ci basta, grazie Enzo, grazie per il contributo. Grazie a voi e buon lavoro e buona fiera venditaria.